Pubblicati sul sito istituzionale del comune di Caltanissetta gli avvisi pubblici di procedura negoziata per la gestione di alcuni degli impianti sportivi comunali. Si tratta del campetto di via Dalmazia, del campetto di via Luigi Rizzo e della pista di pattinaggio di via Rochester, la cui scadenza per la presentazione delle domande indirizzate all'ufficio Sport a mezz'ora comandata, andata e ritorno, è prevista entro il 29 novembre. Nonché l'avviso per la terza indizione della gara, sempre con la procedura negoziata, per l'affidamento dell'impianto di Portella Ginestra, le cui istanze dovranno invece essere presentate tramite mezz'ora comandata entro il 6 dicembre. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del maggior canone offerto al comune. Gli interessati potranno prendere visione degli avvisi non solo sul sito web del comune, ma anche all'ufficio Sport ubicato al terzo piano di Palazzo del Carmine. L'auspicio dell'assessore allo Sport, Gaetano e Angilella, è che l'esito di questa nuova procedura di esternalizzazione degli impianti sia finalmente favorevole in considerazione del fatto che precedentemente le gare espletate non hanno prodotto nessun risultato.